Nel mio piccolo cerco di rendere migliore Milano utilizzando il car sharing e andando solo in bicicletta. La questione del traffico si può sempre migliorare in questa città e ci sono ancora un sacco di piste ciclabili che finiscono nel niente. Secondo me bisognerebbe fare di nuovo dei corsi di educazione civica perché i milanesi sanno essere molto bravi come cittadini ma spesso sono portati un po' alla deriva. Sicuramente aiuterei i nuovi cittadini a sentirsi parte della città dando per esempio la cittadinanza ai figli degli stranieri che qua sono nati, che hanno studiato e quindi sono milanesi tanto quanto bene.